La predicazione, la ricerca costante della comunione fraterna, la carità, la frazione del pane, cioè la vita eucaristica e la preghiera. Qualsiasi situazione deve essere valutata alla luce di queste quattro coordinate. Quello che non entra in queste coordinate è privo di ecclesialità, non è ecclesiale. E' Dio che fa la Chiesa, non il clamore delle opere. La Chiesa non è un mercato. La Chiesa non è un gruppo di imprenditori che vanno avanti con questa impresa nuova. La Chiesa è opera dello Spirito Santo che Gesù ci ha inviato per radunarci. La Chiesa è proprio il lavoro dello Spirito nella comunità cristiana, nella vita comunitaria, nell'eucaristia, nella preghiera, sempre. E tutto che cresce fuori di queste coordinate è privo di fondamento. E' come una casa costruita sulla sabbia. E' Dio che fa la Chiesa, non il clamore delle opere. E' la parola di Gesù che riempie di senso i nostri esforzi. E' nell'umiltà che si costruisce il futuro del mondo. Dalle volte sento una grande tristezza quando vedo qualche comunità che con buona volontà ma sbaglia la strada, perché pensa di fare la Chiesa in raduni, è come se fosse un partito politico. Ma la maggioranza, la minoranza, cosa ci pensa su questo, sull'altro, sull'altro? E a questo è come un sinodo, una strada sinodale che noi dobbiamo fare. Io mi domando, ma dove c'è lo Spirito Santo lì? Dove c'è la preghiera? Dove c'è l'amore comunitario? Dove c'è l'eucaristia? Senza queste quattro coordinate la Chiesa diventa una società umana, un partito politico, maggioranza, minoranza. I cambiamenti si fanno come se fosse una ditta per maggioranza, minoranza. Ma non c'è lo Spirito Santo. E la presenza dello Spirito Santo è proprio garantita per queste quattro coordinate. Per valutare una situazione, se è ecclesiale o non è ecclesiale, domandammoci su queste quattro coordinate. La vita comunitaria, la preghiera, l'eucaristia. Come si sviluppa la vita in queste quattro coordinate? Se manca questo, manca lo Spirito. E se manca lo Spirito, noi saremmo una bella associazione umanistica, umanistica, di beneficenza, bene, bene. Anche un partito, diciamo così, ecclesiale. Ma non c'è la Chiesa. E per questo la Chiesa non può crescere per queste cose. Cresce non per proselitismo, come in qualsiasi ditta. Cresce per l'attrazione. E chi ti muove all'attrazione? Lo Spirito Santo. Non dimentichiamo mai questa parola di Benedetto XVI. La Chiesa non cresce per proselitismo. Cresce per l'attrazione. E se manca lo Spirito Santo, che è quello che attrae a Gesù, non c'è la Chiesa lì. C'è un bel clou di amici, bene, con buona intenzione, ma non c'è la Chiesa. Non c'è sinodalità. Leggendo gli atti degli Apostoli, scopriamo allora come il potente motore dell'Evangelizzazione siano le riunioni di preghiera, dove chi partecipa sperimenta dal vivo la presenza di Gesù ed è toccato dallo Spirito. I membri della prima comunità, ma questo vale sempre anche per noi oggi, percepiscono che la storia dell'incontro con Gesù non si è fermata al momento dell'Ascensione, ma continua nella loro vita. raccontando ciò che ha detto e fatto il Signore, l'ascolto della parola, pregando per entrare in comunione con Lui, tutto diventa vivo. La preghiera infonde luce e calore, il dono dello Spirito fa nascere in loro il fervore. A questo proposito, il Catechismo ha un'espressione molto densa. Dice così, lo Spirito Santo ricorda Cristo alla sua Chiesa orante, la conduce anche alla verità tutta, alla verità intera e suscita nuove formulazioni, le quali esprimeranno l'insondabile mistero di Cristo, che opera nella vita, nei sacramenti e nella missione della Chiesa. Ecco l'opera dello Spirito Santo nella Chiesa, ricordare Gesù. E Gesù stesso lo ha detto, Lui ci insegnerà e vi ricorderà. La visione è ricordare Gesù, ma non come un esercizio mnemonico. I cristiani, camminando sui sentieri della missione, ricordano Gesù, mentre lo rendono nuovamente presente. E da Lui, dal Suo Spirito, ricevono la spinta per andare a annunciare per servire. Nella preghiera, il cristiano si immerge nel mistero di Dio. Quel mistero chiama ogni uomo, quel Dio che desidera che il Vangelo sia predicato a tutti. Dio è Dio per tutti. E in Gesù ogni muro di separazione è definitivamente crollato. Come dice San Paolo, Lui è la nostra pace. Cioè colui che di due ha fatto una sola cosa. Gesù ha fatto l'unità, la unità. Così la vita della Chiesa primitiva è ritmata da un continuo sussegirsi di celebrazioni, convocazioni, tempi di preghiera, sia comunitaria sia personale. Ed è lo Spirito che concede forza ai predicatori che si mettono in viaggio e che, per amore di Gesù, solcano mari, affrontano pericoli, si sottomettono a umiliazioni. Dio dona amore, Dio chiede amore. E questa è la radice mistica di tutta la vita al credente. I primi cristiani in preghiera, ma anche noi, che veniamo parecchi secoli dopo, viviamo tutti la medesima esperienza. Lo Spirito anima oggi ogni cosa. E ogni cristiano che non ha paura di dedicarle tempo alla preghiera può fare proprie le parole dell'Apostolo Paolo, che dice così «Questa vita che io vivo nel corpo la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me». La preghiera ti fa conscio di questo. Solo nel silenzio dell'adorazione si sperimenta tutta la verità di queste parole. e dobbiamo riprendere il senso dell'adorazione, adorare, adorare Dio, adorare Gesù, adorare lo Spirito. Il Padre, il Figlio e lo Spirito adorare in silenzio. La preghiera di adorazione è la preghiera che ci fa riconoscere Dio come inizio e fine di tutta la storia. E questa preghiera è il fuoco vivo dello Spirito che dà forza alla testimonianza e alla missione. Grazie. Grazie.